19 gennaio 1939. La Camera dei Deputati è eliminata dall'ordinamento statale italiano. Al suo posto nasce la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, costituita dal Gran Consiglio del Fascismo e dai membri del Consiglio Nazionale delle Corporazioni. Il Senato riesce a sopravvivere e resta di nomina reggia. Grazie a tutti.